Prima mettiamo aglio e pinoli. Prima mettiamo aglio e pinoli. Prima mettiamo il basilico, il sale grosso, mai troppo. Prima mettiamo aglio e pinoli. Adesso il movimento diventa rotatorio e si va a macinare il basilico sulle pareti del mortaio. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Adesso il formaggio. Il pecorino, il fiore e sardo e il parmigiano. L'olio. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Prima mettiamo. Prima mettiamo il piatto. Ecco qua. e questo